Oste aperti Oste aperti Il treno Freccia Bianca 8635 di Trenitalia delle ore 15.10 per Palermo Centrale è in partenza dal binario 1. Ferma a Catania Centrale N. Caltanissetta Xirvi. La prima classe è in coda al treno. 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 Il treno Freccia Bianca 8638 di Trenitalia delle ore 8.37 proveniente da Palermo Centrale per Messina Centrale è in partenza dal binario 1. Ferma a Catania Centrale. La prima classe è in coda al treno. 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 La prima classe è in coda al treno.